Lo zucchero è tutto uguale, ni, 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 nel senso lo zucchero è zucchero ed è vero, ma ci sono degli zuccheri più importanti di altri. Esempio, lo zucchero presente nella frutta è uno zucchero importante perché è uno zucchero che si porta dietro tutti i benefici della frutta, cioè le vitamine, i sali minerali, le fibre, l'acqua contenuta nella frutta, quindi tutta una serie di sostanze molto importanti che si porta dietro quello zucchero presente nella frutta. Lo zucchero presente in una bibita gassata invece non si porta dietro nulla e quindi l'importanza dei due zuccheri, pur essendo più o meno lo stesso zucchero, è diversa perché è il contesto nel quale quello zucchero è racchiuso che cambia drasticamente il valore dello zucchero stesso.